È il momento del ricordo nel silenzio, quello sordo, che fa male e che impone ponderate riflessioni. Una folle corsa ha spezzato tre giovani vite, quelle di Lorenzo Pantuosco, Lorenzo Vancheri e Denise Maspi, 23, 21 e 15 anni, uniti dalla gioia di vivere un sabato sera insieme, uniti da un tragico destino nella morte. L'intera città di Alessandria si stringe attorno ai familiari e agli amici di questi ragazzi. Il sindaco Giorgio Abbonante ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali e ricorda l'importanza del rispetto del codice della strada e della guida in sicurezza. Tutto ciò che era in programma oggi a livello di conferenze stampa è stato annullato, rimandata la presentazione del Capodanno Alessandrino, così come il lancio della manifestazione Ospidalet coi Babbi Natale in programma domenica prossima. I commercianti del subborgo di Spinetta Marengo hanno poi annullato tutti gli eventi previsti in settimana per le festività natalizie. Uno dei tre ragazzi deceduti, Lorenzo, era il figlio del noto pasticcere Vito Pantuosco che proprio nella frazione alessandrina ha la sua attività. Qui Lorenzo lavorava al fianco del padre. Entrambi erano tifosi sfegatati dell'Alessandria Calcio, la cui dirigenza tutta piange la scomparsa di Lorenzo, che era pure legato alla Luese Cristo, per la quale faceva il magazziniere. Ieri i vertici della società avrebbero voluto rimandare la partita, giocata in trasferta dalla formazione alessandrina contro il BCS Torino e vinta per 3-1. Abbiamo giocato per Lorenzo e per quei ragazzi, ha commentato col dolore nel cuore il direttore generale della Luese Cristo, Romeo Daniel. Tanti messaggi di cordoglio anche dall'Aquicalcio FC e dall'Associazione Sportiva Dilettantistica SG Dertona per la tragica scomparsa dell'ex tesserato Lorenzo Pantuosco. Ed è naturalmente tutta la popolazione del quartiere Cristo, casa e luogo di affetti delle vittime e di chi insieme a Lorenzo, Denise e Lorenzo è rimasto coinvolto nell'incidente, ad essere sbigottita. Anche in questa fetta di città i commercianti hanno annullato gli eventi natalizi in programma per sabato prossimo.